Ladri in azione è in pieno giorno ad Agropoli. L'ultimo colpo è stato messo a segno ieri mattina in un appartamento situato al terzo piano di una palazzina. Con molta probabilità i ladri hanno seguito la proprietaria aspettando il momento opportuno per intervenire. Per agire hanno atteso infatti che la donna uscisse di casa per accompagnare il figlio all'asilo. Presumibilmente i malviventi hanno fatto eruzione tra le 9 e le 11, consistente il bottino che ammonterebbe a circa 8.000 euro tra monili in oro, orologi antichi e contante. Stando a una prima ricostruzione i ladri sono penetrati all'interno dell'appartamento attraverso una finestra interna allo stabile, dalla quale si sono arrampicati per raggiungere il balcone dell'appartamento. Per entrare nell'abitazione hanno forzato la serranda del balcone che dava nel salone comunicante con la cucina. Da qui hanno poi raggiunto la camera da letto dove i proprietari custodivano numerosi oggetti in oro, bracciali in oro, anelli, pariuli, orecchini e pietre preziose. I ladri nel corso dell'irruzione hanno messo a soquadro tutto l'appartamento rovistando nei cassetti, negli armadi e nei mobili, riuscendo a trovare e portare via anche alcuni orologi antichi che per il proprietario di casa hanno un valore soprattutto affettivo, oltre a 250 euro in contanti. Durante la fuga probabilmente si sono accorti del rientro della proprietaria ed hanno lasciato per terra una collana di perle. Ammonterebbe almeno a 8.000 euro il valore degli oggetti rubati. Poco dopo aver scoperto il furto, le vittime hanno presentato una denuncia nella caserma dei carabinieri della locale stazione. Le indagini sono ora in corso per cercare di risalire ai responsabili.